Ciao, sono Valentina e in questo video vorrei rispondere ad una domanda che forse ti stai ponendo anche tu, ossia mi illudo se manifesto una persona specifica? Te ne parlo in questo video. Una domanda che io mi sono sempre posta, ma che poi nel tempo ho visto che si pongono anche per esempio le studentesse dei miei corsi o comunque chi mi segue nella newsletter e così via, è chiedersi se quando manifestiamo una persona specifica, quindi quando vogliamo praticare per manifestare una persona specifica, in realtà ci chiediamo se magari mi sto illudendo, quindi se magari mi sto impegnando in qualcosa che è un'illusione di ridicolo o qualcosa che poi alla fine non capitere mai, quindi magari ci chiediamo sto perdendo tempo, è la direzione giusta? Forse sono tutte stupidaggini alla fine, no? Mi sto illudendo per niente. E questo non lo so se è una domanda che ti poni anche tu, ma secondo me può essere ed è interessante andare un attimino ad approfondirla perché in realtà ci dà comunque la sua risposta delle indicazioni molto chiare per andare invece nella direzione del sapere che non è un'illusione manifestare una persona specifica. Io per esempio ho manifestato la mia persona specifica, il ritorno della mia persona specifica che oltretutto ne ho parlato in maniera piuttosto approfondita in questo video, quindi se ti interessa vai a darci un occhio. Quindi andiamo un attimino a fondo. Andiamo a fondo partendo da che cosa significa illusione, quindi l'illudersi, perché lo voglio mettere a confronto con il termine aspettativa, aspettarsi. Quindi mi illudo o mi aspetto. Allora quando diciamo io mi illudo stiamo già, no? Cioè come pensiero, come significato di questa parola stiamo già ragionando sul fatto che se mi illudo significa che non accadrà, perché chiaramente se è un'illusione è qualcosa che non può accadere. E questo è un po' il problema di tutta la questione, nel senso che già nel momento in cui io mi chiedo ma mi sto illudendo nel manifestare questa persona specifica, significa che do per scontato, facendomi questa domanda, che non accadrà. Ora è vero che mi sto illudendo, perché poi alla fine andiamo sempre lì. Se noi partiamo da i principi fondamentali di cui parliamo e di cui io parlo in questo canale, ossia il processo di manifestazione, sappiamo che se io credo che mi stia illudendo, quindi che è qualcosa che non accadrà mai, sappiamo bene che è ciò che manifestiamo e che poi riflettiamo quindi dei motivi che ci faranno credere e andranno a confermare questa nostra credenza. Quello che ci può aiutare nel momento in cui noi pensiamo, abbiamo il dubbio che possa essere un'illusione che io mi stia illudendo nel manifestare quella persona specifica, è fare un transfer, chiamiamolo così, da la parola io mi illudo alla parola io mi aspetto. Aspettarsi, che cosa significa io mi aspetto? Io mi aspetto qualcosa, quindi mi aspetto che accada una determinata cosa e quando io mi aspetto che accada a una determinata cosa, significa che sto dando la possibilità al fatto che accada, quindi credo che accada. Ora, chiede la mia generazione, oddio non lo so, probabilmente così ancora oggi, comunque ai miei tempi, soprattutto in questi ambiti, ma devo dire in generale, ti veniva detto beh non farti aspettative, poteva essere sia nella vita sentimentale ma anche nella vita professionale, nel raggiungere grandi obiettivi che magari uno voleva, no? Sì sì va bene però non farti grandi aspettative, perché? Perché così non resti deluso, delusa. Questo era un po' il concetto, no? Ed è tra l'altro un modo di interpretare questo termine che non ha il significato che invece gli viene dato all'interno del processo di manifestazione. Perché? Perché quando una persona dice beh non farti aspettative, anche lì, no? Ha già l'idea che la cosa non possa funzionare e quindi evita di credere che possa funzionare così poi non rimani deluso. Ecco, come dicevo, nel processo di manifestazione non è questo il concetto di aspettativa. L'aspettativa è mi aspetto il meglio, mi aspetto il meglio per me stessa e quindi qualunque cosa entrerà nella mia vita, qualunque esperienza io mi trovo a dover affrontare, è il meglio per me in quel preciso momento. Ed è questo poi quello che andiamo a manifestare se comincia a esserci questa idea di aspettativa. Perché questo modo di ragionare sull'aspettativa proviene da uno stato di abbondanza, perché quando io mi aspetto il meglio, qualunque cosa accada, mi aspetto il meglio e me lo aspetto prima di vederlo nella realtà esterna, significa fare un ragionamento e quindi poi agire, scegliere, fare pensare dalla prospettiva di uno stato di abbondanza. È proprio per questo che questo modo di intendere l'aspettativa è differente magari da quello che forse anche tu ti sei ritrovata o ritrovato a vivere, no? Quindi sì ma non farti aspettative, cioè dai, no? È completamente differente, perché mentre il primo modo proviene da uno stato di, cioè viene detto e vissuto dalla prospettiva dello stato di mancanza, perché non farti aspettative, perché non ci sarà quella cosa lì, quindi ti mancherà quella cosa lì, nel lavoro che facciamo all'interno del processo di manifestazione l'aspettativa proviene da uno stato di abbondanza, quindi mi aspetto il meglio. Questo diventa molto importante quando manifestiamo una persona specifica, che lo so diventa sempre difficile e ci passiamo tutti quando abbiamo in mente una persona specifica, l'idea che ci sia qualcosa di meglio non è accettabile, ci fa male, perché noi vogliamo quella persona specifica e questo va bene, questo va bene, non c'è nessun problema. L'aspettarsi qualcosa di meglio ci aiuta a non attaccarci al risultato, al dubbio che possa accadere, rimanendo nell'idea, come dico sempre, che qualunque cosa dovesse accadere differente da quella che tu desideri, magari anche una persona specifica, accadrà perché lo avrai manifestato, accadrà perché sarà quello che tu vuoi, accadrà perché sarai felice che sia così, quindi non ha senso preoccuparsi adesso, ma ci aiuta, ci aiuta enormemente questa idea di aspettativa, mi aspetto il meglio qualunque cosa sia, questa è la mia preferenza, la persona specifica è la mia preferenza, ma so che comunque ci sarà qualcosa di meraviglioso per me e non mi ci attacco, perché ho già adesso, lo vivo nella mia realtà interna. Per cui per rispondere alla domanda mi illudo a manifestare una persona specifica, ti illudi se credi che tu ti stia illudendo, perché? Perché questa frase proviene dallo stato di mancanza e quindi dicendo io mi illudo significa che penso che non accadrà e per cui tutto il lavoro, se tu credi che non accadrà, no? Ovviamente sappiamo come poi si riflette nella nostra realtà esterna. Ti ringrazio infinitamente per essere stata o stato qui con me, è stato come sempre un enorme piacere e ci vediamo nel prossimo video.